Oggi c'era l'acqua che chiaramente faccia una nicchia schifetta vero vero salita tutta quella gente che ci pisciano ma non è giusto perché uno va a mare fa rifrescare un pochettino e uno magari si inquina magari tutti e poi io che prendo quelle cose salita vedi che la pasta sta fuggendo che la mia caruzza che ha a fondo che la scena e c'è questo burricello che mi viene saporoso oggi è una maricriara per davvero mi stava rostrando e niente che ti dico di hittare questa panetta senza manico e ancora tu non l'hai ma... salita salita ma nel fassumauro ci posso astutare? perché mi pare buono già eh? ma che sta facendo un ciavra questo? ma che sta ricchiando? oggi mi devo ricchiare va? oggi mi ricchiando ma i caruzza con nessuno a mare ancora su ti riscazziate? ci disse che a luna c'è la calaola la pasta uno sbagliato che fa non ci coppola ma... se la mangio non coppolata io me la mangio caura caura non mi interessa ma poi o se la scoppiano loro o se la friono ma che stai rostrando le opie? ma succede tutto questo mangiare vedi che ci sta chienando un dell'orecchio ma allora quello che non fa chietare i cauci allora c'è bisogno che ci calavo la pasta il mio telefono il mio telefono al luna in quarto è cucinato questo sbaglio ma... niente niente lo sto pigliando io lo sto pigliando io pronto? pronto? il mio non mi risponde sarà con la città dei miei figli se si affronta essendo a me lo so quest'altro ci mangia nica nica pronto? Gesù Adda? qui? il mio cavale oh cavale buongiorno la storia la storia mi telefona dov'è? il mio cavale ah si sta prendendo un piettino allora il mio cavale cazzo il mio cavale cazzo di aranze eeeh ah mi ha dato qualcuno qua sta venendo niente 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 sta ritorno a muccare il suo fascio Mauro quando c'è un'altra parte no? stavo dicendo lo sento lontano a me che è vecchino lei si si eeeh ma non la sa la strada aaaaah e va bene ora ci spiego io allora per telefono lei mi scendo del bar sta sentendo che Doco sarà romputo l'osso del collo no tutti quelli che vengono da me Doco sono un buonocotto lei mi scendo del bar prende c'è la via Pisciabroro la vi presenti Pisciabroro no? ora si vuoi Pisciabroro Pisciabroro lei cammina di Doco che avanti ora c'è la via dei Sturmi no con occhio con l'occhio con l'occhio eh e girando fuori della via dei Sturmi vedi che c'è una bella villa bella tutte quine di affoli fiori va però chiedono niente a me ah cavallere quando passa questa villa sta sentendo che ci sono le gianni e siccome la sono su chiudere è muzzo nelle gianni va su lei non si scanda o venere lei viene no? mi ha parecavorito no? e dopo vedi che c'è una casetta abusiva e dopo ci sta monovaccio va bene l'aspetto sono sui mangi dei cani mia che lunga oh sarili la mia mi sape che questo mi ha portato questa nicchia di disgrazio sai di ogni modo dalla cabina scappiamo scappiamo ora sta venendo qua ora è andato a fare vileno di sicuro ma perché c'è questo soggetto mi dico che c'è che mangia ma sarili e che ci occupo io ma carabia frigidera e n'esce questa uglia e n'esce il boppettone le luvere e ce l'hanno a fare i vilani che usiamo nuacce magari no? perché cavaliere io sogno a ragionare e che fanno a ragionare io come si ragionare avanti n'esce n'esce tutto il bene di Dio che abbiamo avanti magari cambiali n'esce muta 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 che c'è minchia manchigliano mozzigliano oh cavaliere minchia ma è tutto sudato lei buongiorno ma si state sguagliando con questo cavallo all'uno e un quarto ma che avete mi pare che state andando al mercatino ma cosa ha portato i polli i polli mi resta mia li scariciamo scariciamo un cane il champagne ma che io li sto andando chi è di maggiore lei ma 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 lei mi sta offendendo mi sta offendendo cavaliere ce lo sto dicendo lei mi sta offendendo pacienze a nicchina mi sto offendendo per davvero ce lo dico comunque accettamene ma poi anche cannellone ha portato un mazzotto ma ma che ti fa che noi siamo molto di fame accettamene accettamene che la tavola è pronta accettamene accettamene signora lei se vuole accettare qua i suoi sogni di fronte se hai messo di fronte se no a me nata li amo quando mangia avanti cavaliere tirate la pasta perché si mangia bella calda calda avanti buon appetito a tutti va ehi chi sta l'abbiamo un potecato intera e vediamo chi è cavaliere coppia e coppia ti vengono sempre comitivi amici parenti quanto un mattugno qui siamo della polizia ehi 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 mi scusi lei ha costruito se non è possibile se non è possibile lo so mi segua lo devo seguire ma io qua stiamo mangiando mi segua mi segua va bene non c'è bisogno che mi tira lei lo tiro ma lei lo sa che sono io ma lei lo sa che sono io ma qui è non lo sa che sono io ma qui è un sogno qualunque non c'è bisogno lei è possibile ehi come siamo qua noi siamo è il momento che avviso magari la mia famiglia c'è bisogno vengo vengo siamo vicissimi ma chi è il destino se non è cazzo non lo so ho un cavaliere che mi porta a spiegare a morire ma salita ida ida cavaliere ma scusate un pochettino qua ci sono degli amici e mi devo allontanare forse non sarò i cochi cochi forse che vengo non lo so però se vengo non vieni vieni se conosci se conosci se conosci va bene andiamo 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 che posso fare mi lasci mano mano ma chi mi sta mettendo le manette cacetto io posso mettere le manette che avanti a gestire ehi abusi ehi abusi ehi abusi ehi abusi ehi abusi ma siamo nel 2000 ma vedate questa chi è di fila oh ehi abusi ehi abusi ehi abusi ehi abusi ehi abusi ehi abusi ehi abusi